Sono stati ricevuti dal primo cittadino di Catania Enzo Bianco e i comitati di Gela, Piazza Armerina e Niscemi promotori dell'iniziativa a sostegno dell'ingresso dei rispettivi comuni nella città metropolitana di Catania Filippo Franzone del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese In questo momento queste tre comunità, Gela, Piazza Armerina e Niscemi appunto si trovano in un limbo ci sono le ex province di appartenenza che cercano in qualche modo di ridurre i servizi in questo territorio dall'altra parte la città metropolitana di Catania non può fare una programmazione che include questi tre comuni perché ufficialmente ancora non è stato concluso l'iter e quindi siamo andati da Bianco innanzitutto per chiedere la sua collaborazione a far sì che l'iter venga completato infatti abbiamo chiesto a Bianco che insieme ai sindaci di Gela, Piazza Armerina e Niscemi insieme ai tre comitati, il XAG, il pro-referendum di Piazza Armerina, i libri consorsi di Niscemi e la consulta di Niscemi di andare appunto a parlare con il Presidente della Regione per far sì che quest'iter venga al più presto concluso Quali sono gli atti sostanziali che mancano per completare questo definitivo passaggio di questi comuni alla città metropolitana, all'area metropolitana di Catania? Sono gli ultimi due passaggi che sono più una presa d'atto che una decisione vera e propria manca la delibera di giunta del Governo regionale la quale poi deve essere sottoposta all'esame all'ARS e quindi successivamente pubblicata in casetta ufficiale a quel punto abbiamo concluso tutto l'iter sia ai comuni che alla Regione quindi ufficialmente potremmo dire di essere all'interno della città metropolitana di Catania Che tempi potrebbero correre ancora? Se non ci fosse stato il problema del rimpasto della giunta regionale probabilmente avremmo già concluso l'iter riteniamo che ci vogliono soltanto delle settimane, ovviamente ora siamo sotto le festività natalizie riteniamo che al massimo entro gennaio si dovrebbe concludere completamente tutto l'iter E il sindaco Bianco invece intende intervenire? Che comportamento pensa di porre in essere? Il sindaco Bianco ci ha detto che lui è pronto e disponibile a collaborare con questa realtà già sin da ora e infatti si è preso carico di alcune difficoltà che queste città stanno cominciando a subire dai problemi ospedalieri che hanno ad esempio Piazza Almirino Niscemi alla soppressione dell'ufficio IMSS di Gela e quant'altro queste cose le abbiamo elencate a Bianco e ha detto che lui dove può interverrà Inoltre con Bianco abbiamo accennato di una programmazione futura per questi territori abbiamo parlato di turismo, di portorità, abbiamo parlato di agricoltura e quant'altro abbiamo trovato finalmente un interlocutore con cui si dialoga ed è attento anche alle nostre iniziative Il sindaco Bianco sta seguendo le criticità, la vertenza Gela ad esempio? Lui attendo un po' su tutto, segue anche la criticità della vertenza Gela, segue le varie problematiche di questi territori e speriamo che al più presto mettiamo un punto alle problematiche e iniziamo invece con la progettazione di questi territori Grazie Grazie